Questo della rupe d'Arpea è uno dei problemi topografici più importanti e meno risolti. Per molti topografi si trovava nella parte meridionale, dove è la scima Capitolium, quindi, del Campidoglio. Per altri la rupe d'Arpea era in corrispondenza dell'Arx. Questo perché un problema connesso alla rupe, che ne motiva il posizionamento, sono i centum gradus, cioè i cento gradini. Noi sappiamo che i cento gradini portavano alla rupe d'Arpea. Per alcuni studiosi i cento gradini erano appunto alle pendici meridionali, cioè sarebbero delle scalinate che salgono all'area capitolina e che sono segnate dalla forma urbis, che è una grande pianta marmorea di Roma dell'epoca di Settimio Severo, per cui anche la rupe va posizionata in quella zona. Per altri invece i centum gradus, che sarebbe non un nome ma una indicazione di lunghezza, sono da identificarsi con i gradus monete, menzionati dagli scrittori antichi, che arrivavano al tempio di Giunone Moneta, posizionato sul punto più alto della cittadella, cioè l'Arx, e dunque accettando questa identificazione ne consegue che la rupe d'Arpea era anch'essa in corrispondenza dell'Arx. Queste ipotesi non sarebbe da scartare, in quanto le esecuzioni pubbliche verosimilmente erano in relazione con il sottostante carcere. Inoltre i gradus monete sarebbero il prolungamento delle scale egemonie, ovvero quell'accesso al Campidoglio che ancora vediamo dal foro tra il carcere e il Tempio della Concordia. Nell'area del Capitolium c'era il Tempio di Giove Ottimo Massimo, o di Giove Capitolino, di cui dopo parleremo meglio, che sostituì concettualmente quello della Lega Latina, di Giove Laziari sul Monte Cavo, quando Roma prese il sopravvento. Quest'area del Tempio, e soprattutto l'area antistante, diventò il fulcro di tutta una serie di attività rituali attraverso le quali si consolidava il senso di Romanità, cioè l'appartenenza alla città di Roma. Ad esempio il Trionfo, la parata con l'ingresso in città, nel Pomerio, con le armi, permesso speciale concesso dal Senato solo durante il Trionfo, altrimenti si doveva entrare disarmati, terminava di fronte all'ingresso di Giove Capitolino, dove il generale Vittorioso celebrava un sacrificio. Anche la legittimazione dei console avveniva di fronte a questo Tempio, e da qui partivano i governatori per le province. Inoltre nel Campidoglio, in corrispondenza del Tempio di Obso Pifera, che era nei pressi di quello di Giove, vi era l'erario militare, la Cassa Militare di Roma, creato da Augusto come pandana a quello civile. L'erario civile stava nel Tempio di Saturno, che si trova sulle pendici del Campidoglio verso il foro. Un'altra funzione politica che aveva il Campidoglio, oltre a quelle già citate, era quella di ospitare i comizi tributi, una particolare assemblea con poteri legislativi, almeno per un certo numero di anni durante la Repubblica. Una delle funzioni più importanti del Campidoglio è quella di ospitare l'Auguraculum della città, cioè il luogo dove avvenivano una serie di rituali, essenzialmente finalizzati ad entrare in rapporto con la divinità, e attraverso l'interpretazione del volo degli uccelli, osservati dagli auguri sacerdoti preposti, si stabiliva se fare o non fare una determinata azione. Nella tradizione Romolo e Remo scelgono chi dei due dovrà fondare la città attraverso questa presa degli auspici. Un'altra funzione del Campidoglio è quella di ospitare l'Azzecca. Il Tempio di Gionone Moneta era vicino all'Azzecca, costruita probabilmente nel III secolo a.C., ma moneta significa ammonitrice. Il denaro ha preso questo nome perché l'Azzecca era vicino a questo tempio, infatti si indicava l'Azzecca con l'espressione ad monetam, cioè presso il Tempio di Gionone Moneta. Questa zecca verrà trasferita. Per alcuni studiosi essa sarà spostata in alcuni ambienti sotto l'odierna chiesa di San Clemente. La tradizione letteraria c'è testa il Tempio di Giove Feretrio, costruito nell'VIII secolo secondo le fonti da Romolo. Feretrio dovrebbe provenire da ferre, cioè portare, e fa riferimento alla barella su cui si portavano le spoglie delle armi tolte in duello, cioè le spoglie opima, durante una tipologia di trionfo. È ancora Livio che ci parla della nascita del Tempio e ci racconta che dopo la battaglia contro i Sabini, Romolo portò le spoglie del comandante nemico ucciso su una barella, appunto le spoglie opima, costruita all'occorrenza, e salì sul Campidoglio. Lì dopo aver deposto le armi presso una quercia sacra ai pastori, insieme con l'offerta tracciò i confini del Tempio di Giove e solennemente proclamò che offriva le armi a Giove Feretrio e che consagrava al Dio il Tempio. Inoltre aggiunse che quello doveva diventare un luogo demandato alle spoglie opime che tutti i successivi generali e re vittoriosi dovevano deporre lì dopo averle strappate a re e comandanti nemici uccisi in battaglia. Secondo Livio questa fu l'origine del primo Tempio consagrato a Roma. Questo Tempio venne restaurato da Augusto nel 31 a.C., il quale restaurò 80 templi circa, e ce lo dice Augusto stesso nel Res Geste, perché fece un'azione di recupero dei culti antichi. L'attestazione di un culto di Giove sul Campidoglio già nell'VIII secolo potrebbe confermare l'esistenza già in quel tempo della città di Roma con la sua divinità protettrice. Non c'è nessun dato archeologico al riguardo, se non una stipe votiva, cioè una fossa nella quale viene buttato intenzionalmente del materiale sacro, nella zona centrale del Campidoglio, vicino il Tabularium, la quale è stata identificata come traccia dell'esistenza del Tempio di Giove Feretrio. Il materiale ritrovato risale infatti all'VIII-VII secolo. Questa è la pianta del Campidoglio. Allora, qui vediamo il Capitolium, qui l'Asilum e qui c'è l'Arx. Qui vediamo la tradizionale posizione dei Centum Gradus e queste dovrebbero essere le scale egemonie. Andiamo subito a vedere il Tempio di Giove Capitolino, che è questo qui. Intanto, questa è la ricostruzione della pianta. Questo Tempio non era dedicato solo a Giove Ottimo Massimo, ma anche a Giunone Regina e a Minerva, che sono quindi la cosiddetta triade capitolina. Giove e Giunone, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, sono il re e la regina degli dei, e in Grecia si chiamavano Zeus e Dera. Mentre Minerva fu più tardi identificata con la dea Atena dei Greci, ma in origine era la protettrice delle attività artigianali, dei mestieri e delle arti in generale, e dei commerci, ma soprattutto era ritenuta la guida dei soldati in guerra, che gli assicurava la vittoria. Infatti, nell'iconografia appare spesso armata e con un elmo in testa. Tornando al Tempio, esso fu edificato nel VI secolo a.C. dalla dinastia etrusca. Precisamente le fonti dicono che fu iniziato da D'Arquinio Prisco e continuato dal Superbo, utilizzando il bottino ricavato dalla presa di Pomezia, poiché vi era la volontà di spostare a Roma il varicentro politico della Lega Latina, che aveva il suo santuario, come già detto, il suo santuario comune, sull'attuale Monte Cavo, cioè il Mont Salbanus, che sorgeva in prossimità di Alba Longa, il primo capoluogo. Quindi probabilmente il Tempio di Giove Capitolino doveva in origine avere la funzione di sostituire il precedente Tempio, dedicato al culto di Giove Lazziare. Però la dedica solenne del Tempio e forse una nuova inaugurazione si ebbe solo nel 509 a.C., con l'inizio della Repubblica. All'interno del Tempio erano conservati i libri sibillini, che erano testi oracolari di origine greca che, secondo la tradizione, Tarquini il Superbo, aveva acquistato dalla Sibilla Cumana, la mitica sacerdotessa di Apollo. Questi libri venivano consultati nei momenti di grave crisi da uno speciale collegio di sacerdoti e furono danneggiati dall'incendio che colpì il Campidoglio nell'83 a.C. Successivamente, Augusto li spostò nel Tempio di Apollo sul Palatino. La pianta del Tempio è stata ricostruita sia con l'aiuto della descrizione di Dionigi di Alicarnasso, uno studioso greco vissuto al tempo di Agosto, sia grazie ai resti. Risulta essere un tempio grandissimo, le misure infatti sono 53 x 63 metri circa. Una parte consistente di questi resti, cioè il nucleo centrale del tempio, è oggi visibile all'interno dei musei capitolini nella sala del Marco Aurelio.